buongiorno a tutti oggi voglio farvi conoscere questo fantastico prodotto io lo trovo eccezionale lo utilizzo anche come primer occhi sto parlando dell'aventrue power stay 18 ore concealer quindi un correttore che ha la durata pensate di 18 ore è una formula modulabile che copre le linee sottili le occhiaie e discromie pensate che resiste al calore alla sudorazione all'umidità è confortevole è traspirante ed è adatto a tutti i tipi di pelle vi faccio vedere adesso le colorazioni che io questa è la golden light mentre quest'altra è la golden fair quindi ho preso due colorazioni che hanno un sottotono giallo guardate io trovo fantastico veramente questo correttore perché non va a segnare le occhiaie leviga e soprattutto è veramente resistente non crea quelle anti estetiche pieghette è veramente un prodotto spettacolare che dovete assolutamente provare pieghette è un prodotto spettacolare che dovete assolutamente in questo correttore che dovete assolutamente in questo correttore e quindi ho preso di un prodotto spettacolare che dovete assolutamente in questo correttore